Il più cordiale saluto da ETG, edizione marchigiana del nostro notiziario, che ricordo va in onda in contemporanea ed in diretta, sia sulle frequenze di ETV Canale 12 che in streaming sul nostro sito ora inquadrato www.etvmarche.it. Notizie che trovate a giornate H24 anche sulla nostra pagina Facebook ETV Marche, così come sulla nostra app scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet ETV Marche. Apriamo questa edizione come avevamo anticipato con lo sciopero alla Fedrigoni, siamo a Fabriano, una situazione difficile per oltre 195 tra lavoratrici e lavoratori. Via anche la carta, dunque la voce, la testimonianza delle persone che oggi hanno deciso di gridare la loro preoccupazione per il proprio futuro. Ci sentiamo a pezzi perché purtroppo abbiamo delle famiglie, mutui a carico. È la storia di Fabriano che muore perché anche chiudendo questa parte di stabilimento per la struttura e la tipologia degli impianti che abbiamo a Fabriano non ha senso di esistere neanche l'altra parte. Una lapide di cartone, occhi lucidi, rabbia e preoccupazione. L'iconico tratto è quello che ha fatto la storia di Fabriano, una storia di carta appunto. Ecco, il settore della Fedrigoni che produce le risme da ufficio, stando al fulmineo annuncio dell'azienda, chiuderà i battenti a fine anno e i 195 lavoratori passati due anni fa al ramo Giano non avranno più un impiego. La settimana inizia con lo show per un'occasione degli incontri in regione tra proprietà e istituzioni e poi con i sindacati. Sulla parte da ufficio ci sarebbe meno margine di guadagno per un calo di utilizzo della carta stessa e per la concorrenza asiatica. L'azienda anche ci tengo a sottolineare che sul passaggio due anni fa, detto solo che era una cosa normale, non dovevamo preoccuparci di niente, avremmo continuato a lavorare come prima. E soprattutto siamo stati avvisati di questa chiusura tramite un messaggio sul social interno dell'azienda, in una maniera vergognosa. La cartiera è una storia, non va eliminata, non è che oggi ho un paio di scarpe e mi vanno bene e domani li butto via. Non funziona così, anche perché ci sono delle famiglie con una realtà ben diversa, figli all'università, le bollette immutui. Voglio rilanciare e puntarsi sulle carte speciali artistiche e le etichette, che sono quelle che hanno più marginalità e un prodotto di nicchia. Però è propria di Fabriano, oltre che un territorio comunque desertificato industrialmente, è proprio parte di Fabriano tutta la carta. Poi c'è anche un indotto dietro che parla di altri circa 150-200 lavoratori, quindi non ci fermiamo alla preoccupazione dei 200, ma cresce fino a 4-500 persone. Noi pensiamo che possa rischiare tutto il resto, perché comunque l'azienda quando a giugno non riusciva a vendere il Giano SRE, quindi il ramo d'azienda che ha creato della parte office, quindi la parte uffici, non si è fatto scopo di provare a vendere tutta la ramacchia inserendo anche i stabilimenti di Piero del Castellemondo. Noi non possiamo permetterci di perdere nemmeno un posto di lavoro a Fabriano, 195 posti è impensabile. Una situazione così repentina nel suo sviluppo, sinceramente non se l'aspettavano né i lavoratori, credo neanche le parti sindacali, sinceramente neanche noi. Noi siamo opposizione al governo della Regione, ma ci sarà tutto il nostro impegno per un'azione unitaria. Dopo l'incontro in Regione, l'azienda in un comunicato parla di decisione sofferta, quella della chiusura degli stabilimenti di Fabriano e Rocchetta, ma che insieme a sindacati e istituzioni c'è la volontà di trovare soluzioni per ridurre l'impatto. Nessuna intenzione di lasciare le marche, scrive ancora la direzione, dove negli ultimi quattro anni i lavoratori sono passati da 718 a 840, ma un pezzetto di quella lunga storia iniziata 750 anni fa non avrà più fogli da scrivere. Questo è il resoconto della collega Linda Cittadini del servizio montato da Niccoli Pera. Immagini e testimonianze raccolte proprio pochi minuti fa. Andiamo avanti con il telegiornale, parliamo dell'alluvione del 15 settembre 2022. Prosciolti i sindaci morirono, lo ricordiamo, 13 persone nella furia di acqua e fango. Per i sindaci coinvolti la fine di un incubo, quello giudiziario, ma resta il dolore per le 13 vittime del dramma di due anni fa. Il giudice per le indagini preliminari dell'Aquila, che sta conducendo l'inchiesta sull'alluvione del 15 settembre 2022, ha deciso di archiviare il caso per i 14 indagati nell'ambito dell'indagine. Sui pressunti ritardi nell'allerta alla popolazione tra i reati inizialmente ipotizzati figurava anche quello di omicidio colposo. Parliamo ora di un'altra manifestazione di protesta, questa volta sul fronte raffineria Api di Falconara. Carenze di comunicazione e controllo. Questo lo sfogo dei manifestanti. L'ultimo episodio delle esalazioni di agosto è emerso da un documento che abbiamo ricevuto da Ispra, che è l'organo tecnico, per chi non lo sa, del Ministero dell'Ambiente, che praticamente più di mezza raffineria è andata in blocco per un cortocircuito generato da dei ratti dentro una cabina elettrica. Noi pensiamo che un impianto di questo tipo non debba essere così vulnerabile, ma questo è solo un esempio. E l'altra cosa che è sconcertante è che qualsiasi cosa capita, gli enti di controllo si devono rifare a quello che dichiara il gestore. Cioè, quello che denunciamo da anni non c'è un controllo diretto da parte di un ente terzo su quello che accade in impianti così importanti. L'autorizzazione integrata ambientale, l'ultima cosa che teniamo a far notare, negli ultimi sei anni è stata rivista per ben cinque volte. Siamo tuttora in fase di revisione parziale dell'autorizzazione integrata, quindi sei anni fa questa autorizzazione integrata, che venne rilasciata un mese dopo l'incidente a TK61, ma come è stata rilasciata? Vicenda che continueremo a seguire. Piano vaccinale, ora il punto al ridotto delle muse tra novità e confronti. Nella regione Marche le novità sono le cosomministrazioni, ovvero abbiamo cercato di ridurre gli accessi ai centri vaccinali per facilitare i genitori, ma soprattutto per evitare le dimenticanze. Questo aumenta sicuramente le coperture. L'altra novità è un'offerta gratuita per gli adolescenti per il meningococco di gruppo B. L'adolescente è una popolazione target perché gli adolescenti si aggregano, vanno nei campus e potrebbero essere categorie a rischio. Sono queste le due novità principali introdotte dalla delibera regionale di adeguamento al piano nazionale vaccini presentata a ridotto del teatro delle muse nell'arco del focus sul piano nazionale di prevenzione vaccinale 2022-2025. L'iniziativa dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e della Federazione Italiana Medici Pediatri rientrava tra gli eventi in programma per l'extra G7 Salute di Ancona. Nel corso dei lavori si è parlato anche delle strategie per contrastare le infezioni da virus respiratorio sinciziale visto l'acquisto da parte della regione Marche dell'anticorpo monoclonale che proteggerà i nuovi nati e della campagna influenzale in età pediatrica nelle Marche. L'unica criticità è che purtroppo la ditta produttrice ha dei ritardi perché alcune regioni hanno già accaparrato la fornitura di questi anticorpi, non ci si aspettava questa tesione da tutte le regioni quindi speriamo di superare questa criticità e di partire in tempo come era stato promesso verso la fine di ottobre prima che arrivi il virus respiratorio sinciziale. Si state già organizzando anche per quello che riguarda la vaccinazione anti-influenzale? Ecco, per la vaccinazione anti-influenzale invece siamo già in dirittura d'arrivo perché la campagna è stata già decisa che partirà il 15 ottobre e ricordiamo che per la fascia pediatrica i bambini sono categoria identificata a rischio dalla circolare ministeriale quindi dovrebbero vaccinarsi tutti i bambini dai sei mesi ai sei anni. Importante anche la vaccinazione delle donne in gravidanza non solo per la salute stessa delle mamme ma anche dei bimbi che nasceranno. Raccomandate in tal senso sono la vaccinazione anti-influenzale ma anche quella per la pertosse che protegge il nascituro anche nei primi mesi subito dopo la nascita. In questo caso il vaccino è consegliato per prevenire il rischio di mortalità infantile per la pertosse. Un appello lanciato a suo tempo anche dai genitori della piccina morta 15 giorni di vita all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona per aver contratto contemporaneamente bronchiolite e pertosse. La donna in gravidanza deve immunizzarsi per la pertosse, per l'influenza, qualora la sua gravidanza coincida durante il periodo invernale e anche per il Covid. Non dimentichiamoci che la gravidanza è categoria a rischio per il Covid. Adesso partiremo ma non siamo ancora schedulati su questo probabilmente anche di proteggere la mamma con il vaccino per il virus respiratorio sinciziale. Cambiamo argomento. Ospite questa mattina della rassegna stampa di Buongiorno TV che tra poco andrà in replica. Luca Bocchino di Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro, Urbino. Per lanciare l'allarme pneumatici sono troppi nella nostra regione. Molti non sono tracciati, acquistati online senza le necessarie accortezze. A rischio il cambio gomme invernale perché la categoria è satura. I nostri 200 operatori lavorano al massimo dello sforzo ma il rischio è il blocco dell'operatività. Trovate l'intervista sul nostro sito etvmarche.it. Chiudiamo con un'iniziativa molto attesa e molto sentita. Pane Nostrum. L'obiettivo è superare le 50.000 presenze dello scorso anno per Pane Nostrum e il Salone Nazionale dei Lievitati a Senigallia dall'11 al 13 ottobre quando il profumo di lievito e farina avvolgerà il foro annonario e l'area circostante con masterclass, convegni, show cooking e soprattutto dimostrazioni dedicate al mondo della panificazione, della pasticceria, della pizzeria e della ristorazione. Sono previsti circa 50 espositori provenienti da tutte le regioni d'Italia. Si tratta della ventunesima edizione organizzata da Confcommercio e Cia. Avremo a Senigallia una tre giorni splendida, profonda, tutta legata al mondo del lievitato e della panificazione. E quindi tutto ciò che è eccellenza e anche imprenditorialità legata al mondo della lievitazione e del pane sarà presente a Senigallia. Verrà coinvolta tutta la città e verranno coinvolti tantissimi professionisti che da ogni parte d'Italia arriveranno, tanti maestri panificatori che cercheranno di rendere partecipe la platea delle loro abilità. Pallnostrum è un format che tradizionalmente viene collegato sicuramente alla nostra città. Negli ultimi due anni ha assunto una veste nuova e per noi rappresenta non solo un momento promozionale ma soprattutto un momento di grande riflessione da un punto di vista enogastronomico che è un po' una caratteristica della città di Senigallia. Quindi la possibilità di avere dei grandi panificatori e coloro che seguono l'arte bianca per noi ha una valenza molto importante. Fondamentale il ruolo degli agricoltori nella filiera dei panificati. Noi come organizzazione abbiamo promosso anche il granaio d'Italia che poi è stato approvato dal decreto legge agricoltura per tutelare il grano italiano, il grano del made in Italy, il grano delle marche che è importantissimo quindi con l'istituzione del registro telematico proprio per il controllo perché venga utilizzato grano italiano e quindi tuteliamo anche i consumatori. È tutto per questa edizione regionale del nostro notiziario. Vi lasciamo alla sintesi della rassegna stampa di Buongiorno TV in Onda tutte le mattine dalle 6.45 alle 9.30 con la riproposizione alle 13.30 e 14.30 prima poi della versione serale di Buongiorno e Buonasera dalle 18 alle 19. Tutto, grazie, buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie. 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 Grazie.